E ciao a tutti amici, io sono Axel e oggi sono qui a presentarvi a un nuovo video che ragazzi è il secondo episodio della serie Road to One Million Coins Che è appunto quella particolare serie nella quale io farò compravendita e cercherò appunto ad arrivare a un milione di crediti Dandovi magari consigli ma soprattutto dei giocatori da poter utilizzare durante la compravendita Comunque prima di iniziare volevo ricordare di passare da OneViva.com se ti è interessato a comprare il credito FIFA E di utilizzare il codice Axel appunto come discount code mi raccomando Axel con 2 Comunque ragazzi eccoci qua a presentarvi questo nuovo episodio e ci tengo subito a dirvi una cosa In questo episodio voi vedrete dei prezzi veramente strani Questo perché tutte le clip, scusate la ripetizione delle parole di questo episodio le avevo fatte, le avevo registrate ancora prima che andasse offline Il mercato della web app su Xbox One Quindi mi raccomando non state attenti al costo dei giocatori o meglio a quanti ho comprato un giocatore E a quanto li ho rivenduti perché adesso si sono alzati assai Più che altro state attenti ai giocatori che ho utilizzato perché infatti sono dei giocatori che vi consiglio Anche se come ho già detto moltissime volte per far compravendita non è che ci siano giocatori particolari Si può fare con tutto infatti il principio qual è? Prendere una carta ad un prezzo e rivenderela ad un prezzo maggiore Molto semplice Comunque se vi interessano sapere che giocatori ho utilizzato o meglio su che giocatori mi sono concentrato in questo video Sono tre principalmente Il primo è Boyless in terzino sinistro dell'Ajax Il secondo è Olebas in terzino sinistro della Roma E il terzo è lo Yaya Tour dei poveri Il bomber Yapi Yapo E con Yapi Yapo utilizzavo una sorta di trucchetto se possiamo dirla così Perché infatti lo prendevo come cc Gli cambiavo modulo appunto comprando Gli cambiavo ruolo scusate Appunto comprando il cambio ruolo cc cdc E lo rivendevo cdc ad un prezzo veramente maggiore Perché infatti solitamente Yapi Yapo si trova come cdc E dato che la gente non ha voglia di prendere magari prima il centrocampista centrale che costa meno Puoi prendere il cambio modulo Inserirglielo e poi utilizzarlo come cdc Va subito a cercare il cdc Il prezzo o meglio il giocatore Che ha la carta cdc se possiamo così dire E se la prende qualunque sia il suo prezzo Quindi mi raccomando Sfruttate molto questi cambi ruolo Adesso io vi ho fatto un esempio Yapo Yapo Ma potete ovviamente utilizzarlo con qualsiasi altro giocatore Poi ci tengo a dire che in questo episodio Inizierò seriamente a fare compravinta Perché come ho già detto All'inizio è veramente difficile Ma poi più crediti si hanno Meglio è perché infatti si può puntare O su più giocatori Oppure su meno giocatori Che costano un po' di più Con il quale è possibile fare Ovviamente molta Molto più profitto Un po' di più di guadagno Ecco Spero che mi sia spiegato bene Comunque ragazzi Ci tengo un attimo a chiedervi una cosa Se qualcuno di voi è esperto In fotografia o cose simili Volevo appunto Che voi mi consigliavate O meglio volevo dei consigli A questo qualcuno Mi dovreste consigliare Una reflex Io pensavo che appunto Di prendere una reflex Con non magari moltissime funzionalità Ma che sia innanzitutto Una reflex Che si Che registra bene Perché infatti vorrei iniziare A fare dei video Un po' più particolari Perché come vi ho più volte detto Il mio sogno Non dico che è quello Di proprio cambiare Di smettere di fare video di FIFA Ma è fare anche altri tipi di video Che ho già in mente Però appunto Mi serve una buonissima videocamera Quindi magari Se potete Consigliatemela ecco Come vi ho già detto Non ho moltissime funzionalità Perché se no Si vanno a spendere i big money Cosa che Ora come ora non ho Comunque poi Detto questo ecco Vi volevo anche dire Che ultimamente O meglio Nei prossimi giorni Farò uscire più episodi Del Rottua Million Coins Perché infatti Voglio che voi Vi date i prezzi reali Di quei giocatori In cui sono in quel momento Perché se no Non dico che non sia utile Però potrebbe essere Molto più utile Se appunto I prezzi fossero Quelli veri E secondariamente Inizierò anche a cambiare metodo In che senso Praticamente io andrò Non dico a registrare live Però mettendo caso Io trovo un buon giocatore A 200 compravora Mettiamo così E cosa faccio Io in quel momento Accendo la registrazione Ci commento sopra Lo vendo Interrompo la registrazione E farò ogni volta così Che appunto Dovrò registrare qualcosa Nel senso Ogni volta che prenderò Il giocatore Farò un commento Lo venderò Farò ancora un commento Quindi verrà una sorta Di compravinta in diretta E voi mi dovrete far sapere Se preferite o meno La tipologia di quel video Comunque Ecco Non vi ho detto Un altro giocatore Che ho utilizzato in questo video Ho utilizzato Wright Phillips Attaccante inglese Della MLS Se non mi sbaglio E all'inizio ho utilizzato Un terzino a destra Adesso non mi ricordo il nome Quello tetesco E cosa ho fatto Praticamente Ce ne erano solamente 5 all'asta Vi faccio Adesso Magari non è successo così Però vi spiego il principio Ce ne erano 5 all'asta Tutti Mettiamo caso A 1500 Io cosa ho detto Ma prendiamoli tutti questi 5 E dato che siamo ancora all'inizio Magari tanta gente Non è che faccia compravinta O meglio Non sta molto attento Ai giocatori che metti in venta Quindi può addirittura svenderli Noi li prendiamo tutti Mettiamo caso a 1500 Li mettiamo tutti all'asta a 2500 Così non dico che si fa un price fixing Perché il price fixing È un filo diverso Bisogna aspettare Bisogna proprio essere sicuri Di aver preso tutti i giocatori Tutte le carte Di uno stesso giocatore Ma con questo metodo Magari Li mettete a poco più Quindi mettete In caso Li vendete a 2002 E in poco tempo Riuscirete a venderli tutti E guadagnarsi 700 crediti A giocatore Non mi sembra affatto male Come vedete Il cambio ruolo L'ho utilizzato anche per altri giocatori Come magari Elamdawi Ma Il Mohamadi Ho sbagliato Scusate Poi c'è anche un altro Ada Se non mi sbaglio Messicano Aguilera Adesso non mi ricordo nemmeno come si chiama Però mi raccomando Utilizzate lui Perché Adesso non lo vedrete Ma lo utilizzerò moltissimo In un futuro Comunque ragazzi Detto questo Spero che questo episodio Vi sia servito Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Mi piace dello scorso video Perché inizierò a fare la stessa cosa Che faccio nel secondo canale Che quindi Ogni episodio del pack of the day Deve superare Mi piace Dell'episodio precedente L'ultimo video Ho raggiunto 3337 mi piace Sembrano 33 trentini Lololol E quindi mi raccomando Questo video deve raggiungere 3338 Per favore fatelo E quindi Detto questo Spero che il video vi sia piaciuto E vi sia stato utile E vi dico Potenta Poi Ci sento Al prossimo video Ciao a tutti